Andate tutti dentro. A che ora? È 9.20. Voi dove eravate? 9.20. I negozi eravamo. I negozi eravamo già... Avete sentito subito i crolli? Eh, subito. Qui siamo in pieno centro a Cavezzo? Sì, in centro a Cavezzo. Siamo. Quella casa... Non è passato. Quella casa era abitata? No, era la casa... C'erano negozi sotto e basta, ma non c'era nessuno. Ah, erano tutte case che avevano sfollate quando il primo terremoto. Sì.